Ehi bella gente, il doc è qua presente. Allora, io non so se ormai mi si prende per il culo a tutti noi juventini, al popolo juventino, che cosa? Morata per la centoquarantesima volta. Bomba di mercato, oggi leggo marca, costi c'è l'atletico, morata la Juve. Serve a qualche cazzo di cose, no? Vuoi vendere costi? Sono felice perché se mi toccate l'inghugno mi incazzo. Però vendi costi, ci fai i soldini, poi se mai li investi. Vuoi vendere Cannes? Va benissimo. Tanto c'è Emilio Klaovic, non hai competizione europea. Facciamo cassa che se mai a gennaio si sblocca qualche buon talento, giovane, un Bellingham 2.0, esempio, esempio, lo vai a prendere. Che cazzo vai a prendere Morata di nuovo? Voglio bene a Morata, ma che cazzo vai a prendere Morata? Ma che cazzo vai a prendere Morata? Ma davvero, la Juve delle volte, cioè, mi fa veramente incazzare. Delle volte mi fa incazzare. Comunque, raga, qua si muore dal caldo, non vedo l'ora che arriva lunedì, che si abbassa le temperature perché si muore. Comunque, questa è la bomba di mercato e vedremo. Altra cosa, vedo tanti youtuber, tanti, il Buon Nati per Vincere, Simone Abzim, tutti quanti, fenomeni. Che, Anati per Vincere li voglio anche bene, è Abzim che io non supporto, ma va bene. Però, Buon Nati, Buon David. Quando è arrivato Magnanelli l'hai criticato più e più volte. Più e più volte. Dando del rinetto ad Allegri, dando del incompetente che si è portato a Magnanelli e tutto. Adesso che vince il merito di tutti i Magnanelli. Cazzino è stato un fenomeno di punti in bianco? Ah sì? Ok, ok. Allora, raga. Io sono il primo anti-allegriano, però nella vita ci vuole equilibrio. Nel senso che, come in tutte le cose, se una persona sbaglia e fa male, lo si critica. Però se una persona fa bene, lo si elogia. Raga, tutti vogliamo che lei se ne va. Però, però, ha fatto male due anni, lo abbiamo distrutto. Io in primis l'ho distrutto, ma, ma, se mi fa una gran partita con l'Udinese, perché è una gran partita. Non prendiamoci per il culo, è una gran partita. Bene, se mi fa una gran partita con l'Udinese, giusto? Giusto? Perché abbiamo fatto una gran partita. Perché poi sento dire 40 minuti. Oh, il sessantesimo, il quarto abbiamo fatto e ce l'hanno annullato. Ma che cazzo di partita avete visto? Da dove si è andurato un tempo che al sessantesimo abbiamo fatto il quarto gol? E perché ce l'hanno annullato non conto un cazzo. Cioè, pronti via al secondo tempo, McKennie a momenti fa gol subito. Poi arriva, fa entrare l'inghugno, l'allegri. Gran palla e mezzo con un tocco da fuori classe clamoroso. Vlovic la mette dentro, fuori gioco. Beh, però l'hai fatta al sessantesimo. È normalissimo, normalissimo, che sul 3-0 al sessantesimo tira un po' il freno a mano, normale. E la reazione, l'Udinese ha una reazione, come è giusto. Con il calcio è sempre così. E se l'ha avuto il frosinone col Napoli, cazzo di Giuda. Ma non ci prendiamo per il culo, regà. Cioè, non criticate Magnanelli. Adesso che abbiamo vinto, abbiamo visto un bel calcio. Adesso è inventato un fenomeno. Non va così. Dovete essere coerenti. Dovete essere coerenti. Soprattutto voi che siete personaggi pubblici. Dovete essere coerenti. L'avete criticato? Avete fatto una figura di merda? Zitti. Zitti. Ma che cazzo ho parlato a fare? Cioè, ci sono i video che lo testano. Ma che... Ma io dico, ma le figure che... Ma non ci ragionate mai con la testolina? Mai? Bene. Abbiamo la prova del 9 col Bologna. Abbiamo la prova del 9. Giochiamo in casa. Ok? Bologna non è una bruttissima squadra. Gli manca il centro avanti, purtroppo. La dobbiamo asfaltare. La dobbiamo asfaltare. Voglio un alto 2-3-0. 4-1. Voglio una marea di gol. Ultima cosa. Chiesa dice... Questo è il calcio moderno e tutto. Manda una fracciata ad Allegri. Ma la manda tutti ad Allegri. Dirigenza e squadra. Perché tante volte... Io odio Allegri, eh. Non lo sto difendendo. Ma tante volte... Io sono obiettivo. Tante volte... Quando abbiamo visto Allegri che dice state su alla squadra. Se non ci siete mai stati allo stadio non potete capire. Ma se sei stato allo stadio, vedi Allegri ti dice su alla squadra. La squadra se ne fotte e si abbassa. Magnanelli è stato preso per quello. Per far sì che la squadra non si abbassi e continui a pressare. È semplice. È semplice. Comunque raga, se il video vi è piaciuto, la bomba di mercato, speriamo che non si fa. Voglio bene a Morata, ma speriamo che non si fa. Mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale. Dobbiamo crescere, cazzo. Dobbiamo distruire. Perché se cresciamo, eh. Se cresciamo, poi lo scontro con Telespala Bob di Benevento, il clown, arriverà. Dobbiamo solo crescere. Voi iscrivetevi. Cresciamo. E poi lo scontro più epico dell'anno, il Doc contro Avzim, arriverà. Che ve lo dico io, arriverà. Però dobbiamo crescere. Ciao ragazzi. Un bacione.